Ciao, sono Ivan Foglieri Non ero più soddisfatto perché non avevo una vita piatta È arrivata la mia età e ho deciso di fare questo salto Perché probabilmente è l'ultimo step in cui posso fare questo E proporre appunto le mie idee artistiche e le mie canzoni Eccomi qua Sono andato a prendermi una tenda, un saccappelo Mi facevo le docce tutte le mattine alla Caritas Tenda, saccappelo, doccia e andavo a sommare Devo mettermi alla prova e uscire da questo con le mie sole forze Grazie a tutti Grazie a tutti